Ciao a tutti amici di MEP, oggi vi mostrerò come scaricare gratuitamente qualsiasi versione di AutoCAD, anche le più recenti. Come fare? Praticamente è gratuito per tutti quanti gli universitari, per chi sta iscritto all'università. Vediamo come fare. Apriamo il nostro browser, io apro Chrome, e cerchiamo su Google Autodesk Educational. Come vediamo esce questo come primo risultato. Clicchiamo su AutoCAD, io nel mio caso faccio sign in, perché già sono registrato, voi dovete creare un account, ci sono pochi semplici passaggi e creerete un nuovo account, quindi fate sign in. Poi cosa succederà? Una volta insomma fatto, possiamo scegliere la nostra versione. Facciamo Download, scegliamo la versione, vedete, 15, 16, 17, 18. Quello che volete, io ho scelto 2016. Per i computer di ultima generazione, 2017 e 2018 sono ottimi, perché hanno la funzione di riconoscimento del 4K, degli schermi 4K. Quindi ad esempio vogliamo scaricare il 2017, oppure 2016, vedete se il vostro sistema operativo è 32 o 64 bit. Come fare? Tasto destro su Start, Sistema, e da qui vediamo, sistema operativo guarda, 64 bit nel mio caso, se a 32 lo vedrete. Quindi continuiamo, scegliamo 64 bit, linguaggio italiano e facendo Install Now, accettate, si scaricherà questo piccolo software, arriverà anche alla mail, scaricherà questo piccolo software, lo avviate e comincerà a scaricare la vostra versione di AutoCAD. Poi partirà l'installazione di AutoCAD e non dovete far altro che andare avanti finché non vi troverete AutoCAD. Come vedete adesso è partita l'installazione vera e propria di AutoCAD e dipende dalla vostra connessione si scaricherà prima, non c'è più in fretta, più lentamente. Adesso vi farò vedere l'autocad precedentemente scaricato, ve lo aprirò e insomma vi faccio vedere come si presenta, perché le vecchie versioni avevano, quando andavi a stampare usciva la scritta versione per studenti, dal 2015 in poi questa cosa è stata adotta, vediamo solamente nell'intestazione c'è versione per studenti, per il resto è esattamente uguale a quelli che si trovano sulla rete craccati, però abbiamo questa opportunità di averlo gratis per tre anni. Se questo video vi è piaciuto iscrivetevi alla nostra pagina e mettete mi piace al video. Se avete altre richieste non esitate a contattarmi, a scrivermi qualche cosa nei commenti e vi risponderò al primo possibile. Al prossimo video!